ciao ragazzi sono giuseppe e benvenuti in questo nuovo video in questo video io vorrei parlare dei 122 anni della nostra juventus auguri per questi 122 anni piedi successi di emozioni avrebbero vissuto momenti bui terribili ma ci siamo ripresi alla grande quindi bene così ragazzi con i nostri grandi successi siamo ripresi alla grande quello solo fare in questo video solo fare i nostri tanti auguri alla nostra juventus e basta sono rivolto questo video sono rivolto agli auguri e la nostra come dire la nostra fede bianconera bene ragazzi vi auguro una buona giornata grande braccio fino alla fine forza juventus ciao ragazzi